Io penso che, non so, se tu, io penso che ogni persona si fa nel suo modo, ma c'è quella lì qualcosa, l'immagine, o non so, questa cosa pericolosa, forse è quella prima volta che l'aveva visto, che era importante per me. E anche di no, quando insegno, in generale non dobbiamo fare gli movimenti della faccia durante il training, perché è il corpo che deve parlare, ma mi piace ogni tanto che il corpo è pericoloso, i movimenti. E poi un'altra cosa che mi piace, che non viene da lei, ma se tu vedi questa immagine degli salti, penso nel periodo del 68, nel libro, nel programma, c'è un movimento insieme, e quell'altra cosa che mi piace molto, di saltare. Adesso che inizio il processo di training, i momenti quando hai velocità, che puoi bloccare la velocità, ma spostarti nello spazio e anche saltare, per me è la cosa più bella. Cioè è un po' magico il salto. Perché ti puoi spostare? Perché ti dà? No, se tu vedi anche il balletto di Bolshoi, che cosa ti piace di più a vedere? I salti? Sono i più drammatici. E per l'attore, anche per me come l'attrice, è il più bello, perché è come volare. È come se io faccio il sci, io volevo fare il slalom. Non sono brava a saltare, ma i movimenti un po' dei rischiosi, sono i più affascinanti. È bella questa cosa che dici del corpo pericoloso. È molto interessante. ti dà un'idea del training, non solo. Non è neanche pensato così. Ma adesso se provo di guardare me stessa, quando faccio il training, quella lì, la cosa più interessante adesso, che è un po' diversa da quella volta, non so, 40 anni fa, che adesso ho il coraggio di seguire proprio quello che sento. Salto, ballo, faccio quello che ho voglia di fare. Mentre quella volta, 40 anni fa, eravamo sempre così, dobbiamo fare le cose, esercizi, dobbiamo fare la tecnica. E come l'attore è troppo preoccupato di quello che è giusto, che ha un senso, no? Di seguire i principi o non so. Adesso che faccio il training, non mi frega, non mi frega, lo faccio per me. E mi butto dentro l'universo, con la musica, faccio le cose magiche. Quando dico faccio le cose magiche, cioè cambio una cosa, scopro una cosa. E questo è magico. E poi mi diverto. Non soffro. Non soffro.